Col fiatone per una partenza appena persa, mi accingo a presentarvi il materassino, il tappetino di ricezione Cocoon di MAC2 che trovate sul nostro catalogo a pagina 102, dal prezzo indicativo di 49,90 euro, caratterizzato da una lunghezza di 1,5 m per una larghezza di 55 cm. E' un ottimo oggetto che garantisce la totale incosumità del pesce, è caratterizzato da due cinghie che lo contornano interamente, quindi ogni rischio di rottura delle stesse è scongiurato. Queste cinghie terminano con degli anelli in metallo, in inox, che possono essere utilizzate per la pesatura o per appendere il materassino stesso o asciugare in qualsiasi posto si voglia. Davanti troviamo quattro grosse chiusure in velcro che scongiurano ogni uscita accidentale del pesce durante le fasi di approntamento del set fotografico o mentre ci procuriamo un secchio per bagnare il pesce stesso. Qua in alto troviamo una piccola taschina che usano in velcro dove possiamo mettere disinfettante, pinze per la slamatura, forbici o quant'altro possa essere necessario per manipolare il pesce stesso. L'interno, come vediamo, è caratterizzato appunto da un tessuto spalmato, quindi una volta bagnato è molto scivoloso e quindi è totalmente sicuro nel confronto del pesce. Molto, l'imbottatura è molto spessa, i bordi sono molto alti, quindi il pesce qua dentro non rischia assolutamente di essere danneggiato. Inoltre, sul fondo è presente una rete che ci aiuterà a far drenare l'acqua in eccesso per effettuare appunto la freddazione di pesatura. La parte poi, il cuscino stesso, la base, è asportabile tramite muscolo per garantirci di far asciugare l'oggetto o di pulirlo. A sua volta il cuscino stesso può essere aperto per sostituire, cambiare, asciugare e maggiorare l'imbottitura. Non che comunque sia quella già presente, è sufficientemente imbuttita per garantirci di maneggiare pesce anche su terreni molto imperdi. Un ottimo oggetto, totalmente sicuro, che vi consiglio caldamente.